Leo Marongiu, neo segretario provinciale del PT, è stato nominato domenica scorsa. Con quale spirito, con quale entusiasmo assume questo incarico? Una grande emozione, una grande gratificazione. Scherzando pensavo di riposare un po' per Natale dopo le fatiche elettorali, invece la comunità democratica unitariamente mi ha scelto come proprio segretario rappresentante provinciale e io sono enormemente gratificato perché questa nomina cade su di me ma cade anche su tutto l'ottimo lavoro che abbiamo fatto qui a Lanciano, non solo come Partito Democratico ma come coalizione larga di centrosinistra e noi su qua ripartiamo, su tutti i territori con un'idea di grande apertura del Partito Democratico verso tutti i gruppi civici e tutti gli alleati, perché il Partito Democratico non basta da solo, non deve essere geloso di se stesso, deve aprirsi così come abbiamo fatto a Lanciano e abbiamo fatto in questi anni in tutti questi territori. Io voglio portare questo in dote alla nostra comunità. Quali sono i temi sui quali si batterà in particolare e soprattutto l'importanza, sottolineava, di costruire nel PD? Bisogna costruire, il Partito non deve essere considerato un fine ma uno strumento, uno strumento per discutere anche dentro i nostri circoli di temi che sono fondamentali per il nostro territorio provinciale, il lavoro, la salute con la questione degli ospedali, l'acqua, l'agricoltura. Su questi temi lanceremo una grande campagna di discussione nei nostri circoli, nelle nostre comunità nel 2022, oltre che ripartire dall'organizzazione. Una grande campagna di tesseramento di persone che vogliono ricominciare a confrontarsi guardandosi negli occhi e in presenza quando sarà possibile e non solo virtualmente. Si tratta della prima volta che c'è un segretario provinciale di Lanciano? È vero, io sono il quinto segretario provinciale del PD, il primo di Lanciano. Vedo che questa nomina, questa scelta è stata accolta con grande entusiasmo nella nostra città e io porterò questa nostra lancianesità, diciamo così, all'interno della nostra organizzazione. Rosetta Madonna, segretario cittadino del PD, le ha sempre riconosciuto due grandi valori, la mediazione e lo spirito di aggregazione, di sintesi. Sì, queste sono caratteristiche del nostro operato politico qui a Lanciano, sono caratteristiche e attitudini che dobbiamo portare avanti perché non solo portano fortuna, ma mettono al centro di qualsiasi progetto di alternativa il PD. Ora dobbiamo costruire questo, nei prossimi due anni e mezzo la madre di tutte le battaglie sarà la prossima elezione regionale dove lì dobbiamo presentarci pronto e il PD può esprimere un grande protagonismo a partire dagli uomini e dalle donne che esprimiamo in provincia di Chieti. La sua sconfitta in campagna elettorale qui a Lanciano non l'ha arrestata, anzi le ha dato nuovi stimoli. Sì, assolutamente sì perché è stata una vittoria mancata per molto poco, in un'atmosfera che vive ancora, c'è ancora grande entusiasmo e questo entusiasmo mi spinge a continuare a lavorare, questa volta non egoisticamente, non solo per la nostra città, ma per tutto il territorio provinciale.